Quando riguarda il corteo di stamattina era una manifestazione pacifica che poi dopo si è rivelata in uno stato di guerriglia e non si è capito ancora il motivo. In realtà è che oggi lo Stato non permette nemmeno alle persone che vengono vessate nonostante pagano l'indennizzo a queste strutture che vedete qua dietro di manifestare pacificamente, cioè devono essere contenuti, devono manifestare e non alzare la voce. Non si può comunque urlare oltre un tot e quindi alla fine l'operaio è inascoltato, l'operaio è vessato, l'operaio deve essere comunque pressato e sottomesso, non può alzare la voce e ovviamente dopo un po' sfugge anche quelle che sono le dinamiche del normale dialogo. Questa cosa ha lasciato un po' sconcettare tutti quanti perché noi alla fine stiamo battendo per un posto di lavoro e che venga rispettata la dignità dei lavoratori. Come sapete il Movimento 5 Stelle punta il dito sul fondo strategico, sull'utilizzo del fondo strategico. Oggi sono venuti qui i lavoratori proprio per fargli vedere come si lavora in Parlamento e se si è resi conto dell'inerzia del Ministro del Sviluppo Economico sulla questione AST. Diziana Ciprini, prego deputata. Grazie Presidente. Innanzitutto un saluto ai lavoratori dell'AST presenti in tribuna. Il Ministro dello Sviluppo Economico ritiene che AST sia un sito che può realizzare utili, visto il fatturato di 2,3 miliardi di euro. Vogliamo fornirvi alcuni dati che, secondo il Movimento 5 Stelle, dovrebbero attirare l'attenzione del Governo verso una risposta affermativa, invece che pensare di gestire gli esuberi nel modo meno traumatico possibile. La capacità produttiva di AST è pari a 1,7 milioni di tonnellate d'acciaio l'anno. È uno dei principali siti integrati a livello mondiale. Un sito integrato è un sito dove entra materia prima e esce il prodotto finito. È quinta nella classifica mondiale della produzione di acciaio inox, dopo Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Il ciclo di produzione è basato su tecnologie moderne. Gli acciaio inox prodotti da AST sono impiegati in diversi settori, trasporti, elettrodomestici, applicazioni domestiche. Edilizia una vasta gramma di applicazioni industriali. Inoltre, in tutto il mondo è previsto un aumento della domanda di acciaio. Il ministro dello Sviluppo Economico e il primo ministro Renzi possono considerare accettabile celebrare il funerale della siderurgia italiana proprio durante il semestre di presidenza europeo? È accettabile che in caso di smantellamento di AST l'Italia sarà costretta a comprare l'acciaio dai cinesi o dai paesi del nord Europa, proprio mentre il trend mondiale degli stati occidentali è quello del rilancio del manufatturiero? Proprio oggi è che si parla di reshoring, ovvero riportare in patria le produzioni come sta facendo Obama in America con le sue politiche industriali. Abbiamo fatto moltissime manifestazioni e non siamo mai andati avanti degli scontri e quant'altro, come hanno ripetuto anche alcuni rappresentanti della Camera. L'esperienza che ho vissuto oggi qui alla Camera, diciamo da cittadino, è brutto vedere il disinteresse quando parlano le persone che rappresentano comunque ognuno la propria forza politica, che c'è un disinteresse generale dove parli da solo e nessuno ti ascolta. E secondo me oggi ho visto la rappresentazione dell'Italia dove ognuno pensa ai propri interessi. Quindi su questo c'è un po' di rammarico e le speranze cominciano a scemare.